carissimo arnaldo carissimo arnaldo è un po di tempo che non non ci colleghiamo non facciamo dei video noi ne abbiamo fatto qualcuno che ritengo in passato naturalmente che ritengo ritengo importante e negli ultimi tempi però ci siamo un po scritti ma anche stamattina tu mi scrivevi delle cose importanti a seguito di una domanda che ti ho fatto anzi io l'ho fatta sia te che a silvano e devo dire che la risposta è stata praticamente con qualche sfumatura è stata praticamente la stessa facciamo questa questa diretta perché tu hai una tua chiave di lettura su quanto sta accadendo a livello a livello monetario finanziario eccetera che ritengo estremamente interessante importante quanto meno da divulgare se ne puoi parlare certo e bisogna vedere da dove iniziare perché la materia è complessa perché fatta di tante sfaccettature che poi vengono complicate da i dettagli che ci buttano dentro il punto di partenza dovrebbe essere sempre quello dei nostri video precedenti c'è il punto di partenza è che cos'è veramente il danaro e come origina il danaro chi lo fa originare perché se si hanno chiare questo se sia chiaro questo aspetto cioè di cos'è il danaro chi lo crea e come lo crea puoi arrivare facilmente alla conclusione di capire che la situazione che stiamo vivendo è assolutamente normale per il sistema nel quale viviamo ci tocca fare una piccola premessa prima di dire cosa sta accadendo tutto il danaro nasce dal prestito tutto il danaro e come si paga il prestito precedente si paga con un prestito seguente più grande che serve per pagare principale e interessi del prestito precedente praticamente è una catena di prestiti è una catena infinita che deve aumentare sempre di più e qual è l'esca per farti indebitare qual è l'esca l'amo che questi mettono per farti indebitare come si chiama l'amo no si chiamano tassi di interesse quindi questo è l'amo e l'esca per dire ragazzi ora va bene chi si indebita al 10% chi all'11 chi al 10 ieri o l'altro giovedì mario draghi ha portato i tassi allo zero allo zero cioè vuol dire teoricamente teoricamente debito quasi gratis perché poi ci sono i costi bancari va bene dov'è che voglio arrivare bisogna arrivare a capire che il sistema del debito innanzitutto è una truffa perché quando la banca presta non si priva di alcunché ma il prestito è in se stesso generatore di danaro cioè il prestito non è che io tolgo una penna qua e la presto a quest'altro è come se quando la banca presta crea la penna al momento del prestito praticamente la banca presta scusa 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 ma il prestito lo crea la banca o se lo autocrea chi accetta questa è la sfaccettatura fondamentale il prestito lo crea chi firma quel pezzo di carta e si impegna a restituire in cambio di una promessa quindi il vero prestito lo fa al momento della sottoscrizione il mutuatario non la banca quindi questa è una bella osservazione siamo noi c'è quel famoso video che abbiamo fatto sulle moni sulle banconote in quel video delle banconote chi se lo va a vedere dice la banca d'italia dice che chi accetta le banconote fa credito la banca d'italia quindi chi accetta le banconote euro fa credito la bce è la stessa cosa sembra follia ma chi è interessato se lo va a documentare sono tutti fatti scusa stiamo dicendo vediamo se ho capito perché la cosa sembra sembra sconvolgente ormai tanti amici lo sanno quindi nel momento in cui immaginiamo una persona sottoscrive un contratto di mutuo eccetera che cosa fa sta generando un debito per lui e un credito per la banca esatto la banca non possiede quel denaro nel momento in cui tra virgoletto lo prestita lo lo presta scusa ma lo sta generando lo possiede prima che quello firma il foglio non c'è non c'è non esiste non esiste quindi vuol dire non esiste esatto quindi vuol dire che chi firma quel quell'atto sta creando questa situazione cioè un debito per lui e un credito in quel momento per la banca esatto esatto fino a quel momento non esiste nulla quel denaro non esiste quel denaro non esiste quindi chi firma un contratto di mutuo sta generando un debito appunto per lui e un credito per la banca quindi praticamente è un suicidio è un è un suicidio in questo periodo e poi parliamo di questo periodo ma tu pensa che dagli anni 85 i tassi furono portati al 20 per cento li portarono al 20 per cento è una storia lunga non ne parliamo adesso allora però debito era inesistente quindi la massa del debito si è andata a creare e a strutturare proprio da quegli anni in poi il denaro girava talmente tanto la gente era disposta a indebitarsi sempre di più perché dopo c'erano altri debitori che entravano nel meccanismo del debito ed è andato bene fino a qualche anno fa fino a diciamo possiamo dire al 2000 2001 2002 per gli anni famosi della boom dello boom della borsa ma adesso lo si sente molto di più perché arriviamo alla situazione adesso adesso siamo in piena deflazione che sembra una cosa di cui i giornali temono perché deflazione in uno degli uno degli effetti della deflazione è quello dell'abbassamento dei prezzi quindi c'è da domandarsi perché i giornali temono la deflazione se il prezzo del pane mi scende da tre euro a due ore e cinquanta no dovrebbe essere in teoria una cosa buona quindi questo è il primo elemento di confusione che fa la stampa i media i media i media fanno perché la deflazione ha degli effetti positivi per la popolazione se calano i prezzi dei beni di consumo ma il vero problema della deflazione qual è il vero problema della deflazione che arrestandosi il meccanismo di aumento del debito restano i debiti da pagare e c'è praticamente il collasso della bolla del debito c'è il collasso perché arrivano i debiti da pagare qualcuno li deve saldare e quindi hai fallimenti a catena hai aziende che chiudono hai l'aumento della disoccupazione hai persone che non riescono a pagare il mutuo hai taglio delle pensioni hai hai tutto quello che accade da siamo al 2009 da 5 6 anni a questa parte la deflazione non è il contrario dell'inflazione ma è il collasso del debito il collasso del sistema del debito e le banche centrali e finisco questa parentesi le banche centrali continuano ad evitare il sistema bancario comprando obbligazioni bancarie e societarie ehm private per diciamo rimpolpare il bilancio delle banche ma le banche sono tecnicamente fallite ormai da anni le banche sono fallite perché la banca presta un multiplo che è 100 200 mille volte i depositi che hanno e quindi non rientreranno mai di questi soldi perché hanno prestato soldi che loro non solo non hanno ma non esistono non esistono nessuna parte del mondo eh Arnato ti chiedo di andare un po' rallentatore su queste cose quindi tu dicevi deflazione in realtà eh la deflazione dovrebbe dovrebbe avere un effetto positivo perché porta l'abbassamento dei prezzi ma in questa situazione invece porterà eh porterà meno consumi diciamo così porterà eh a a tanti fallimenti e questo perché 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 c'è meno denaro in circolazione perché il denaro non viene più immesso eh perché perché me lo spieghi facendomi qualche esempio elementare poi ti devo fare un'altra domanda a proposito dei fallimenti delle banche sì ti faccio un esempio vediamo un esempio semplice l'esempio semplice potrebbe essere eh quello del corpo umano c'è un video che ho fatto col corpo umano lo stato di salute della nostra economia in questo video ho fatto un video artigianale ho fatto un corpo umano da una parte il prelievo di sangue dall'altro il sangue che viene rimesso nell'organismo praticamente il sistema del debito ti toglie più di quello che ti dà quindi eh perché questo è dato dal calcolo degli interessi che oltretutto aumenta aumentano in maniera esponenziale quindi se tu da dal corpo umano o da un vaso togli più acqua di quella che metti a un certo punto l'acqua finisce e la deflazione vuol dire vuol dire che il nuovo debito non viene generato quindi circola meno denaro circola meno denaro perché ci sono prestiti che non vengono più fatti il debito pubblico è limitato perché la il debito pubblico non è analogo ed equivalente al debito privato il debito pubblico paradossalmente equivale al risparmio degli italiani il debito pubblico è il denaro che noi abbiamo in tasca non bisogna confondere debito pubblico e quello privato sono due cose completamente diverse e hanno delle funzioni diverse però temo che se parliamo di questo adesso ci vuole troppo tempo a spiegare ma sintetizzando il debito pubblico è equivalente al risparmio degli italiani quindi riducendosi la spesa pubblica non importa se è utile se è inutile non importa se è fatta per pagare autostrade che non vengono mai finite va bene quei soldi comunque finiscono finiscono nelle tasche di qualcuno che le spende arrestandosi il debito pubblico gira meno denaro i privati sono già indebitati fino all'osso e quindi nuovo denaro non viene creato perché il sistema del debito è saturo però essendo saturo il sistema del debito ed essendoci i debiti perché adesso si da saldare e allora hai famiglie che saltano case all'asta aste giudiziarie pignoramenti ufficiali giudiziari che ti vengono a mettere sigilli a casa insomma cose che succedono tutti i giorni ma non è colpa ecco questa è la cosa importante che forse va trasmessa oggi in questa occasione non è colpa del malaffare non è colpa della corruzione non è colpa del sistema legale che è antiquato non è colpa che non è colpa del sistema italia non è colpa della nostra mentalità è un problema tecnico di come funziona il denaro in europa in italia in america in giappone il problema è lo stesso dappertutto quando non c'è nuovo indebitamento ci sono i debiti perché si da pagare e hai un fallimento collettivo della società della società perché perché il sistema salva se stesso le banche salvano se stesse dal 2009 le banche sono fallite dal 2009 non dimentichiamolo ma tu l'hai detto prima quindi la risposta è in quelle tre domande che tu dicevi inizialmente quindi se non rispondiamo a quelle domande che cos'è il denaro chi lo crea come lo crea non siamo in grado di capire quello che accade e tu hai detto anche un'altra cosa importante vediamo se così si riassumo bene vedi il denaro viene messo nel mercato per usare un termine che a me non piace ma intanto per capirci attraverso sostanzialmente solo il debito fatto sia ai cittadini che allo stato poi lo stato ovviamente può fare degli investimenti pubblici e quindi mette in questo modo a sua volta del denaro nel momento in cui i prestiti tra virgolette al ai cittadini e ad aziende è in forte fortissima riduzione fortissima riduzione lo stato non fa investimenti quindi abbiamo meno della ricircolazione dall'altra parte abbiamo le banche che chiedono rientri abbiamo lo stato che aumenta le tasse quindi si preleva più di quello che viene innesso mancando il denaro in circolazione accade quello che stai dicendo tu si preleva si preleva nel senso che il sistema del debito chiede il pagamento dei debiti progressi e quindi sottraggono sottraggono liquidità disponibilità alla sistema nazione alla popolazione per i loro interessi di parassidi perché questi sono dei parassidi mi dispiace perché lavorava in banca lavora in banca io lavoravo in banca ma la banca è il parassita per eccellenza la banca non nasce per fare prestito alla popolazione ma la banca nasce per appropriarsi dei tuoi beni questo è l'obiettivo vero della banca appropriarsi dei nostri beni e c'è di più appropriarsene prima possibile senza senza passare attraverso anche la la giustizia perché quello che sta accadendo è proprio questo cioè evitare alle banche tempi tempi che sono tempi validi per tutti e soprattutto evitare di avere anche dei costi aggiuntivi dei costi aggiuntivi non passare per 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 le aule dei tribunali e quindi velocizzare il tutto anche con costi con costi ridotti questo è il senso dell'approvazione senza rischi perché tanto il pollo che firma viene di sua spontanea volontà e firma da solo la sua condanna a morte col suo sangue è paradossale ma la banca non presta niente però siamo così il punto è che siamo così dipendenti di questo sistema malato nel quale viviamo che dicevamo prima come fai a pagare 10 euro di parcheggio nella città da dove li trovi il contadino che produce patate se deve fare una commissione in città come fa è un sistema che che ti rende schiavo e ti rende non ti rende capace col tuo lavoro con la tua energia di pagare quello che ti serve per campare praticamente sei uno schiavo perpetuo in questo sistema ti rende ti rende indipendente dal dal sistema sostanzialmente quindi anche anche per esempio che tutto il discorso della della moneta scrittorale digitale è la stessa cosa cioè quindi non non poter fare nessuna operazione al di fuori di questo sistema chiaro chiaro però mi spieghi bene volevo sapere da te quindi questa cosa penso che sia abbastanza chiara insomma non credo che che dobbiamo aggiungere altro invece mi dai una tua chiave di lettura del di questi prestiti a tasso zero cioè che cosa c'è da aspettarsi perché viene fatto come si è arrivata a questi poi magari sulle finalità possiamo avere due due chiave di lettura diverse ma intanto vediamo dal punto di vista finanziario perché secondo te beh dal punto di vista finanziario è perché innanzitutto c'è da pensare che le banche centrali non hanno nessun potere sui tassi di mercato ci sono studi consolidati che fanno vedere che la banca centrale segue sempre segue sempre i tassi di mercato cioè i tassi di mercato sono i tassi dei titoli di stato sui quali la banca centrale non ha non ha a margine non ha quasi nessun potere non ha nessun potere quindi la banca centrale non decide un bel niente questa è una cosa apparentemente che molti e molti lo daranno per una falsità ma mi dispiace così la banca centrale segue sempre segue i tassi di mercato segue i tassi di mercato ok come la fed segue i tassi di mercato dei titoli di stato americano così la bce seguirà i tassi i tassi sui titoli di stato breve segue sempre i tassi a zero perché adesso gli interessi sull'investimento più sicuro che c'è sono i titoli di stato cioè è lo stato e si impegna a restituirti una somma te le restituiscono alla pari cioè a 100 oppure addirittura te le restituiscono sotto la pari come per esempio i titoli di stato tedeschi che ti danno tu investi 100 ti danno 98 ma perché questo sta accadendo perché questo sta accadendo questo sta accadendo perché siccome il danaro è letteralmente virtuale e siccome siamo in un sistema di deflazione nel quale questo danaro virtuale verrà spazzato via perché non ci sono nuovi debiti come ripeto ma è importante chiarire avremo anche fallimenti di aziende quindi dove li metti i soldi o li metti in titoli stato o li metti nel mercato azionario o li metti nel mercato obbligazionario privato tutti questi tutti i settori di investimento materie prime tutti questi settori sono al collasso guarda loro che da 1900 è arrivato a 1000 dollari e cioè ha perso il 50 per cento guarda il petrolio che sta a 34 35 era 147 capito avremo fallimenti dobbiamo avere per forza di cose fallimenti a catena nel settore petrolifero perché con i prezzi a 34 eni ha detto che sotto i 40 dollari non ce la fa quindi chi investe in azioni chi investe in strumenti obbligazionari societari chi investe in obbligazioni ad alto rischio ad alto rendimento rischia di rimetterci la camicia quindi l'investimento più sicuro sono i titoli di stato che male che vada ti danno zero ma zero è un'assicurazione in questo periodo quindi questo è un segnale della situazione nella quale siamo dove dove metti i piedi ci sono le sabbie mobili quindi il denaro rischia di sparire non solo nella società ma anche come investimento e poi vabbè c'è il discorso degli immobili che anche gli immobili non è un investimento perché anche gli immobili sono e verranno tartassati sempre di più basta vedere la svalutazione attuale che già c'è intorno al 40% quindi ma continuerà continuerà perché siamo in piena deflazione e allora un messaggio chiaro che è forse brutto da dire per qualcuno il sistema come lo conoscevamo dieci anni fa è un ricordo non torneranno i tempi di dieci venti anni fa è un ricordo perché perché il sistema del debito è saturo è saturo se paradossalmente venissero gli alieni da Marte e sarebbero disposti a indebitarsi miliardi di persone allora certo che riprende certo che riprende tutto abbiamo nuovo debito sempre di più ma ci sarà sempre poi un periodo nel quale anche gli abitanti di Marte saranno usatori di debito e ci sarà il giorno del giudizio lo chiamano il giorno del giudizio finanziario dove tu praticamente hai degli occhi che dici cacchio ho vissuto nel sogno per tutti questi anni però di questo non ci posso fare niente quindi ciò che bisogna aspettarsi è innanzitutto la rapina la rapina di beni della gente insomma dalla casa il peggiorare sempre di più di quello che sta già accadendo quindi sistema bancario che si appropria insomma di un patrimonio immobiliare anche non solo o falliscono le banche o falliscono le persone aspetta però qualcuno scusa questa è una domanda importante qualcuno sostiene sostiene che le banche non possono fallire perché creando denaro dal nulla sostiene come fanno a fallire e tu puoi invece dirci qualcosa di più chiaro su questa l'abbiamo spiegato prima su questa ok c'è solo un punto debole ripetiamolo c'è solo un punto debole in questo sistema bancario che l'indebitamento è volontario è su base volontaria quindi la banca non può prestare i soldi se non viene qualcuno che dice io mi indebito adesso si sta sostituendo all'indebitamento volontario la banca centrale che compra spazzatura come l'acquirente di ultima istanza capito che compra titoli aziendali azioni è diventato un fondo di investimento la banca centrale le banca centrali sono anche esse tecnicamente fallite ma questo è un imbroglio è un imbroglio il gioco è un gioco dove il croupier se si chiama croupier bara il banco bara quindi è un gioco al quale non bisogna più giocare il banco bara questa società è in marcia fino in fondo capito? se chi gestisce il denaro ci truffa oltre la truffa che è una truffa legale quella del prestito bisogna correre ripari e per me l'unico correre ripari è l'autosufficienza alimentare energetica per quanto possibile è l'unica forma di rivoluzione cioè staccarsi da questo sistema che prima o poi andrà a picco mi dispiace tu sai che la cosa è più facile a dirsi voglia farsi no? certo quindi in che cosa lo vedi possibile staccarsi da questo sistema e in che cosa invece purtroppo non è possibile facciamo un discorso molto molto terra terra molto pratico Arnaldo su questo perché magari continuiamo a dire determinate cose io le sento dire a tanta gente bisogna staccarsi staccarsi ma vediamo in che cosa realmente è possibile e in che cosa è veramente più difficile se non impossibile beh innanzitutto chi vive in città non ha manco un fazzoletto di terra dove piantare il basilico prima difficoltà chi vive in città cosa fa? chi vive in città può farsi degli amici che vivono fuori della città dagli una mano creare una sorta di una sorta di associazionismo attivo però dove tu dai una mano concreta se c'è da piantare patate come in questo periodo o pomodori peperoni melanzane certo poi siamo comunque tutti dipendenti dalla corrente anche per come è strutturato il gestore dei servizi elettrici in Italia quindi per quello siamo schiavi della corrente è comodo accendere e spegnere la luce e l'acqua esce dal rubinetto a me l'acqua esce dal rubinetto con la corrente elettrica qui a casa da noi quindi in quello lo so se venisse a mancare la corrente avremo grandi difficoltà però l'unica cosa da ricordare sempre perché anche con un gruppo elettrogeno in realtà c'è sempre dipendenza dal sistema però c'è un messaggio in tutto c'è un messaggio aspetta questo è un messaggio importante che voglio sempre ricordare anche a me stesso perché se venissero tempi difficili la cosa da ricordare è che siamo tutti insieme in questa in questa situazione quindi non è un problema più solo mio solo di Elia essendo un problema di tutti di tutta la gente che abita vicino a te vicino a noi vicino a voi non è un problema se è un problema di tutti non è un problema ci si unirà ci si incontrerà in qualche piazza in qualche strada e tutti insieme si dirà come si è sempre fatto che cacchio facciamo per risolevarci per almeno per campare diciamo bene mangiare bere dormire quindi se il problema è di tutti non è un problema se la borsa salta e tutti perdono i danari non è un problema perché perdo i danari io ma lo perde chiunque nella mia città quindi non è che sono più povero di prima danaro forse non esisterà più fra qualche anno non ne ho idea so solo che col rischio di deflazione rischiamo sempre di più un collasso del sistema nel quale viviamo e bisogna prepararsi per tempo fare scorte avere una bella dispensa fare in modo da che se succede qualcosa stiamo a meno un paio di settimane due settimane un mese addirittura abbastanza tranquilli per decidere sul da farsi scorta di semi io ho una bella banca del semi qua a casa la consiglio a tutti occupano poco spazio sono scenari da apocalittici lo so però se sai come funziona il danaro sai che questo sistema non c'è nessuna ripresa ci bombardano con la ripresa dal 2011 ci bombardano la ripresa sulla ripresa il tasso di disoccupazione che cala all'azienda di mia moglie vanno ogni tanto sviluppo Italia a proporre contratti contratti a spesa zero per l'azienda di gente che è pagata dallo Stato cioè tu hai in azienda dei lavoratori gratuiti pagati dall'amministrazione e questo figura come aumento dell'occupazione quando è tutto finto insomma dove voglio arrivare tutto quello che ci dicono è una menzogna tutto quello che ci dicono è una menzogna e non credere a tutte queste balle che ci dicono scusa stavo leggendo un paio di commenti che sono arrivati perché nonostante lo stiamo facendo su un canale che non praticamente su cui non carico niente qualche spettatore lo abbiamo ci sono un paio di domande che dopo magari ti rivolgo ma siamo realisti sono diversi anni che siamo in crisi e la crisi ha già toccato insomma a livelli abbastanza importanti tu dici ma l'esperienza di questi anni ci ha dimostrato che man mano che andiamo avanti siamo più uniti o invece man mano che andiamo avanti siamo sempre più divisi cioè siamo diventati sempre più degli individui isolati ognuno pensa al sé ognuno pensa come risolvono le sue quotidiane vicende che sono di ogni tipo sono di tipo finanziario possono essere anche di tipo diverso possono essere di tipo occupazionale possono essere di tipo non lo so riguardano la salute cioè c'è un peggioramento dello stato generale di salute sempre più sempre più elevato e a me pare con tutta la franchezza Arnaldo che questa crisi più che unire mi pare che divida si diventa più chiusi in se stessi si diventa più più isolati perché poi i motivi anche di di questa di questa divisione sono tanti personali ma anche ma anche magari relativamente alle idee che poi si hanno su una serie di argomenti quindi io io questa unione finora non l'ho vista mi auguro che la situazione peggiore ancora di più e che porti un po' di saggezza a tutti noi e capendo che una delle possibilità che abbiamo di fare qualcosa è proprio quello di unirci e non invece di ragionare in termini in termini come dire individuali ho qua un paio di commenti visto che ci siamo ti parlo di una breve esperienza personale non mi fa mi fa piacere ma qualche anno fa persi il lavoro per alcuni motivi nel quale che facevo e mi sono sentito in grande difficoltà rispetto a tutte le persone che conoscevo come faccio a dire ho preso il lavoro mi sono licenziato e quindi capisco bene quello che hai detto perché mi è successo in prima persona se ti licenziano se perdi il lavoro se la tua azienda chiude e hai gli amici che casomai fanno ancora la vita di prima le vacanze il weekend come fai a dire non posso farlo è chiaro che ti chiudi è chiaro sì ti chiudi ma addirittura quello che si può verificare io mi auguro di no è che ci si scanni tra noi per poche briciole in sostanza perché il sistema poi anche a questo mira quindi a farsi scannare per poche briciole purtroppo ripeto è uno scenario che io non mi auguro ma che se devo tener conto un po' di quanto ho visto in questi anni purtroppo mi appare un po' come dire possibile come tipo di come tipo di scenario a meno che ripeto non ci sia uno scatto di 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 ma dicevo io ho qualche qualche commento che ti volevo leggere almeno qualcuno dice Luca Urbinati è che un commento di Luca Urbinati io non lo conosco e dice dove sta la fregatura sulle case in leasing mi sembra mi sembra che non solo si voglia far diventare tutto privato ma che i piccoli risparmiatori non possederanno nemmeno ciò che usano ergo quindi sono ricattabili la casa in leasing il leasing è come se fosse un affitto solo che l'ultima rata di leasing ha il trasferimento della proprietà il leasing è come è come un affitto quindi la proprietà rimane rimane della della banca mentre invece nel mutuo nel mutuo la proprietà è intestata subito al al soggetto che però deve pagare le rate perché insomma c'è l'ipoteca tutto il resto eccetera eccetera certo quindi va bene va bene poi Luca Urbinati dice anche altro sostanzialmente dice non so se lo chiede perché riesco a vedere sull'avvento parte del commento che fuori dalla città in energia e alimentazione gli altri dovranno abbandonare la metropoli per il momento insomma cose che abbiamo già cose che abbiamo già detto e tu che cosa consigli proprio in maniera diciamo succinta in maniera breve chiara diretta che cosa consigli di fare in questa situazione soprattutto nello scenario che mi pare sia abbastanza facile da prevedere insomma beh allora come azione azione civile la prima cosa che mi viene in mente è smettere di andare a votare a parte naturalmente se ti chiedessero di votare per un referendum vuoi le trivelle o non vuoi le trivelle forse lì andrei a votare ma io smetterei di la collusione con questo sistema tanto non cambia niente queste sono le mie opinioni personali poi ognuno lì deve essere libero di fare quello che crede la seconda cosa l'ho detto è di prepararsi scorte di viveri alimentari di prepararsi al peggio augurandoci che non accada mai poi è dedicarsi un pochettino all'attività di produzione qualsiasi attività di produzione di beni o di servizi anche che diciamo ti rende ricco perché tu generi ricchezza col tuo tempo con le tue mani con la tua intelligenza è una strada da perseguire in questo in questo periodo diciamo diciamo una cosa folle diciamo che un domani il commercio con la Cina si blocca diciamo che non ci sono più scarpe più fabbriche che producono scarpe in Italia quindi paradossalmente un domani calzolaio di un tempo potrebbe essere un domani per dire siamo davanti a degli scenari dove le cose che usiamo vengono fatte in Brasile in Giappone in Cina chi lo sa in quale scenario siamo davanti capito non veramente sono cose da film apocalittico però innanzitutto prepararsi mentalmente sulla possibilità parlarne con chi può essere disposto a farlo per esempio non fare la spesa al supermercato ma farla dal rivenditore ma anche io ogni tanto faccio la spesa al supermercato cioè è difficile certe volte veramente essere coerenti anche io certe volte faccio delle cose che per comodità passano lì e prendo una cosa farsi il pane in casa capito cose cose semplici posso dire posso dire quanto a che livello arriva la nostra stupidità noi abbiamo fatto in modo che praticamente attraverso la grande distribuzione passasse anche alla maggior parte sostanzialmente di quanto mangiamo e questo con due effetti anzi con più effetti uno che ci vendono poi le cose l'altro che sono pochi interlocutori da corrompere per alterare anche il cibo lo dico chiaramente perché il nostro cibo a parte tutte le sostanze le sostanze che sono tutt'altro che salutari è ormai privo anche di sostanze nutrienti ma potremmo parlarne ampiamente anche con una certa signora che io ho conosciuto poi mi pare che sia tua madre anzi non mi pare e ci siamo resi schiavi totalmente dipendenti anche quasi dalla grande distribuzione anche in tema di agricoltura le campagne sono state abbandonate il grosso colpo l'ha dato un altro colpo l'ha dato la comunità europea con tutta una serie di politiche tendente a distruggere la nostra economia l'ultima notizia che arriveranno e arriveranno tonnellate tonnellate migliaia di tonnellate di olio tunisino invaderanno l'Europa e quindi anche l'Italia questa per solidarietà nei confronti dicono della della Tunisia nessuno pensa magari ai nostri ai nostri viticoltori eccetera ma siamo veramente di fronte alla stupidità ma nostra perché non siamo in grado di capire esattamente i piani di queste di questi poteri siamo distratti prego ce l'hanno venduto su quello che stai dicendo non per interromperti ma ce l'hanno venduto come sviluppo ce l'hanno venduto come progresso e noi ce lo siamo bevuto perché ne siamo stati costretti perché il sistema del debito è un sistema della ruota del cresceto dove se non ruoti e se non corri anche tu nella ruota del cresceto muori sei tagliato fuori non muoto nell'altro ci siamo bevuti questa idea di sviluppo di futuro che è un'idea decisa a tavolino da qualcuno seduto in qualche ufficio a Bruxelles in qualche ufficio alla Casa Bianca o in posti che noi neanche immaginiamo volevo rispondere a Luca Urbinati che sempre a proposito del leasing dice quindi interpreto anche un po' la domanda quindi essendo in questo caso la casa di proprietà o l'immobile di proprietà della banca quindi è la banca che paga l'imo e no caro Luca Urbinati teoricamente sì l'imo è una tassa a carico del proprietario ma la banca ti ha fatto sottoscrivere un contratto col quale ti impegni tu a pagare l'imo questo te lo dico per esperienza diretta non solo ma anche per esempio l'assicurazione sull'immobile dovrebbe dovrebbe sottoscriverlo la banca visto che lei la proprietaria ma anche in quel caso ti ha fatto sottoscrivere un contratto col quale tu ti impegni a pagare anche l'assicurazione sull'immobile di fatto le banche fanno quello che vogliono questa è la realtà la domanda da farsi se una truffa è legale è una truffa se una truffa è legalizzata è sempre una truffa e qua ci dovremmo mettere d'accordo sul su che cosa che cos'è la legalità e che cos'è realmente la giustizia ma è un discorso chiaro 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 ormai la maggior parte delle persone ritiene ritiene che legalità e giustizia siano la stessa cosa no? la legalità è semplicemente una legge che disciplina e disciplina in un certo modo un qualcosa ma da nessuna parte è scritta una legge sia giusta anzi noi viviamo in un sistema di leggi ingiuste quindi mi pare evidente anche questa di leggi che sono fatte in anni dove le cose sono cambiate da quegli anni leggi non più attuali è tutto il sistema è un sistema faraggino la truffa la truffa la truffa è questa chiunque mi pare dice esattamente l'articolo con artifici e raggiri induce qualcuno in errore procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito eccetera eccetera qua di ingiusti profitti con artifici e raggiri con artifici e raggiri mi pare che siamo pieni c'è l'imbarazzo della scelta pensa alla pubblicità pensa alla pubblicità ecco potremmo esatto ma la pubblicità è che qua la viene considerata più accettabile la pubblicità ingannevole l'hanno chiamata ingannevole e cosa vuol dire che truffaldina dice assolutamente niente perché ci riempiono di slogan non c'è nessuna informazione su prodotti e su altro potremmo dire anche altre cose sull'etichette su come sono fatte sulle lobby che ci sono dietro in alcuni settori però ripeto effettivamente l'argomento è tanto vasto che rischiamo di cambiare di cambiare il tema della nostra discussione che invece vuole essere focalizzato su quanto sta accadendo su questa deflazione a che cosa porterà e quindi di quali sono gli scenari e abbiamo anche detto che cosa nel piccolo perché noi parliamo di grandi cose che cose nel piccolo si può fare sperando che sperando che la gente si svegli cosa molto difficile pensa vero che bello questa società diciamo è al collasso probabile futuro pensa che bello una nuova società basata su però principi diversi su ideali diversi sulla cooperazione sul rispetto reciproco sull'aiutarsi dove il profitto accendo la luce aspetta mi dicono non si vede certo ecco qua chi mi dice che non accetta i succedimenti pensa a una società basata su principi diversi dove un guadagno mio non è più una perdita tua come adesso adesso il sistema monetario mette tutti in concorrenza gli uni con gli altri perché danaro è rarefatto artificialmente tu pensa però a una società dove un guadagno mio è anche un guadagno tuo pensa a una società dove gli interessi coincidono del singolo e della collettività pensa a una società dove non c'è problema di truffa di raggiri dove non è bisogno di lavorare per pagare le tasse in uno stadio che ti chiede il 60 il 70% di imposte però siamo all'80 siamo all'83 siamo all'83% pensa a una società migliore di quella nella quale viviamo quindi il collasso di un sistema non è una cosa negativa se si va in una situazione migliore o diciamo più umana quindi non sempre la catastrofe non sempre quello che noi viviamo come catastrofe è negativa tra virgolette certamente può essere difficile negativa così questa qua poi scusa Arnaldo ci sono le due diverse le due chiavi di lettura tu e mia a mio avviso questi sono capaci di controllare perfettamente questo crollo di questo sistema per edificarne un altro ancora peggiore perché noi non siamo uniti non abbiamo costruito non siamo una forza non abbiamo nessun potere non abbiamo costruito un sistema alternativo quindi assisteremo ad un crollo di questo sistema per vederne edificato un altro ancora peggiore ma per questo controllo sarà aspetta aspetta per questo la comunità importante la comunità il gruppo di persone che vive intorno a te questi non potranno controllare ogni palmo del territorio capito certo la società la città è una zona dove sarà più facilmente controllabile ma la campagna gli spazi aperti non arriveranno a fare coi droni che ti sparano all'aperto da fine di fantascienza mi auguro di no mi auguro di no tu sai tu sai e ti sei anche impegnato per questo tu t'erai anche impegnato per tentare un po' di organizzare qualcosa a livello di moneta complementare eh sogni quanti quanti comuni ci sono in Italia ti risulta che in qualche comune al di là di qualche di qualche iniziativa poi anche molto marginale e non so con quali esiti francamente perché poi è facile sbandierare sbandierare degli effetti positivi delle conseguenze positive dei risultati positivi ma poi io sinceramente questi risultati positivi non li ho visti questo non per non per contestare la validità di una moneta complementare ci mancherebbe altro io sono sono d'accordo quanto per eh per toccare con mano l'assoluta incapacità di trovare di unirsi e di trovare anche solo due tre quattro cinque dieci amministratori pubblici che osano perché parliamoci chiaro senza notorità anche comunale la moneta la moneta complementare non decolla questo è un dato di fatto almeno questa è la mia idea non siamo riusciti in questo in una in uno stato così così grande come l'Italia con migliaia e migliaia e migliaia di comuni non si è riusciti in questo quindi qual è la prospettiva ripeto c'è uno scatto di intelligenza anche legato proprio alla sopravvivenza o se no effettivamente mi pare che al di là di tanti proclami al di là di tante chiacchiere al di là di tante teorie ma di fatto mi pare che poi concretamente si sia realizzato niente questa è la mia io lo dico chiaramente non ho bisogno di fare il positivo il vogliamoci bene il siamo al salto quantico siamo all'amore universale siamo se non riusciamo nemmeno a fare questo ma di che cavolo mi vengono a parlare perché la moneta complementare non decolla perché siamo un popolo di consumatori la rivoluzione che di cui ho parlato prima abbiamo parlato altre volte insieme la rivoluzione trasformarci da consumatori a produttori di qualcosa e allora si che a produttori di qualcosa la moneta complementare è importantissima ma se siamo consumatori non ci serve a niente la moneta complementare a niente bene questo è questo è molto interessante non dobbiamo fare la rivoluzione del supermercato dobbiamo fare la rivoluzione del produttore al supermercato non penso che Che Guevara andava a fare la spesa alla stand alla conada alla coin per dire un esempio così ma la vera rivoluzione è sganciarsi da questo sistema va bene vuoi aggiungere altro Alnaldo o ci fermiamo qui che Dio ce la mandi buona e ci aiuti tutti però ripetiamo che se è un problema per tutti non è più un problema quindi l'unica cosa da tenere nel cuore è che non siamo soli perché troveremo nelle difficoltà tante persone che ci saranno vicine sperando naturalmente che le difficoltà non saranno gravi mi auguro che le cose andranno bene naturalmente però qualora ci fossero delle difficoltà io sono sicuro che la gente intorno a noi sarà solidale sono sicuro perché se no non c'è speranza per il genere umano e sarebbe troppo allora io accetto e sottoscrivo che Dio ci aiuti lo dico già da un po' che ci aiuti perché ne abbiamo veramente bisogno è anche vero che aiutati che Dio ti aiuta quindi una mano ce la diamo noi magari e una mano ci arriva dall'alto è una fase questa determinante è una fase cruciale e quindi io mi auguro che veramente si abbia la forza il coraggio l'intelligenza di uscire da questa fase assolutamente inconcludente magari fare qualcosa di estremamente più 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 come dire che abbia un senso pratico concreto di azioni di unione eccetera eccetera questo è il mio augurio va bene io ti ringrazio scusa Arnaldo magari alla prossima affronteremo qualche altro argomento sempre sempre estremamente importante perché con te ovviamente è un piacere perché sei molto molto diretto molto chiaro molto concreto non facciamo giri di parole speriamo che sia servito qualcuno per capire qualcosa speriamo io penso proprio che sì penso proprio che sì infatti ti ringrazio di questa di questa tua disponibilità grazie ancora e alla prossima ovviamente quando vuoi ciao Elia stai bene ciao ciao ciao